Presentato lo scorso 29 marzo nell'auditorium Fondazione Carispa a Call'Aquila, il volume di Beppe Convertini, Paesi miei, in viaggio con linea verde, alla scoperta delle tradizioni d'Italia. Nel volume Beppe Convertini ci accompagna alla scoperta di alcuni paesi che appaiono meno di frequente nelle guide turistiche, attraversando la penisola da nord a sud, raccontandoci tutti in retroscena dei meravigliosi incontri che la conduzione del programma gli ha permesso di fare. Qui nella fondazione della Cassa di risparmio dell'Aquila, presentazione del mio libro Paesi miei, un racconto straordinario dell'Abruzzo, sono qui anche per girare con linea verde, una puntata davvero speciale, e naturalmente una presentazione in cui abbiamo raccontato della giostra di Sulmona, di tante cose, di tanti luoghi, di tante persone meravigliose di questa terra. Naturalmente di Celestino V, che è stato il vostro amatissimo Papa, e quindi l'appuntamento è con la giostra d'Europa sicuramente, ma poi con il mio libro in varie località di questa terra straordinaria, che è l'Abruzzo. Beppe Convertini ormai è amico dell'Abruzzo, è amico della provincia dell'Aquila, e è stato presente per tre giorni all'Aquila per visitare i luoghi più belli, più importanti, che rivedremo a linea verde. Io ho voluto prendere a volo questa presenza, conoscendo Convertini, Beppe, conoscendo la sua preparazione sul clima, sul verde, l'ambiente, e abbiamo avuto questo incontro nel quale lui ha presentato anche il libro che ha scritto Paesi miei. Abbiamo lanciato il progetto, che è il progetto della Fondazione della Cassa di Risparmio, quella idea di mettere insieme la provincia, quindi l'Aquila, Sulmona e Avezzano. E come fare per mettere insieme la provincia, se non con un uomo importante che è stato presente all'Aquila, è stato presente a Sulmona, ad Avezzano, Celestino V. È un'idea che è venuta fuori l'anno scorso nella giostra europea, con la presenza di Beppe Convertini, nella quale abbiamo detto che l'uomo Celestino V può essere l'uomo della pace. Questa idea è venuta fuori quando è iniziata la guerra in Russia, e quindi abbiamo pensato che si deve ancora molto parlare di pace. E quindi nel nome di Celestino V, un progetto che, partendo dall'Aquila, naturalmente per la perdonanza e quindi per l'importanza che ha Celestino V all'Aquila, ma anche l'importanza che ha Celestino a Sulmona, dove ha costituito il gruppo dei celestiniani, dove ha costruito l'abbazia celestiniana. E poi, perché non unire anche Avezzano nel nome di Silone, che ritroviamo nel libro Il povero cristiano, dove Silone parla di Celestino V. Quindi un progetto importante che nel futuro metterà sempre di più da parte i campanilismi e metterà sempre di più insieme la provincia. Un abbraccio e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Onda TV.